benvenuti alle risorse umane da neo assunti nella più prestigiosa organizzazione per i rapporti umani state per intraprendere un'avventura meravigliosa la vita giù sulla terra può essere molto complicata per questo le persone hanno bisogno di noi sarete assegnati ai vostri clienti umani da il tubo mi hanno affidato michael bloomberg d'accordo avrete l'opportunità di collaborare con creature di vari dipartimenti nella vostra squadra ci saranno mostri degli ormoni è così eccitante e ancora non ha usato i suoi ferri del bestiere spiriti della vergogna tua moglie ti ha appena scritto chiedendoti se prendi tu la bambina a scuola vuoi che le risponda io l'obbux o mio dio l'amore della tua vita ti sta chiedendo di sposarlo davanti la turre eiffel kittis depressione tesoro appena chiamato leonardo di caprio vuole che tu gli restituisca questo diamante insanguinato rocce sensate e jeremy non c'è ancora motivo di alzarsi io te lo prometto scenderai da questo aeroplano e tanti altri siete tutti elementi essenziali che aiutano gli umani a essere umani sette giorni alla settimana 52 settimane all'anno mille anni al millennio voi siete le risorse umane e e Grazie a tutti